Il sito della Nuova Pescara è online. Presentato questa mattina in conferenza stampa nella Sala Camplone della Camera di Commercio di Chieti Pescara, servirà a monitorare lo stato di avanzamento della fusione fra i tre comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, dopo il referendum consultivo del 25 maggio 2014. A parlarne è il presidente dell'Associazione Nuova Pescara, Marco Camplone. Guardi, noi innanzitutto andiamo incontro a una precisa richiesta dei tanti, tantissimi che credono nella Nuova Pescara, che è quello di avere un contatto diretto con l'associazione. Voi come sapete noi siamo un'associazione che raggruppa tantissime altre associazioni, quindi adesso ci apriamo tranquillamente alla cittadinanza. Abbiamo previsto nell'ambito del sito, dove spieghiamo tante cose, anche la legge, dove spieghiamo i passaggi che devono essere fatti, e ahimè quelli che non sono stati ancora fatti. Abbiamo lasciato la possibilità di una adesione, che ovviamente è gratuita, assolutamente gratuita. Devo dire, la nostra associazione ha un unico obiettivo, che è quello dell'attuazione del referendum che ha sancito l'unione di Pescara, Montesilvano e Spoltore. Ci sono dei ritardi. La prima data prevista dalla legge regionale è il 1 gennaio 2022. Mi dispiace dirlo, ma credo che non sarà possibile rispettare questa scadenza. La seconda data è 1 gennaio 2024, quindi saremmo a dieci anni dal referendum. Dovessero esserci ulteriori ritardi, arriverà il commissario. Ma penso che a quel punto sarà una sconfitta dura, bruttissima, della politica locale e anche della politica regionale. Cristiano Doardi, vicepresidente dell'Associazione Nuova Pescara. A cosa servirà il sito che oggi presentate? Innanzitutto, chiaramente, a presentare la nostra associazione e a tenere sotto controllo, e far tenere sotto controllo ai cittadini l'iter burocratico. anche la possibilità di aderire al nostro progetto in maniera del tutto gratuita per i cittadini che vorranno in qualche maniera condividere con noi questo percorso e in questa maniera cercare di far capire un po' a tutta la cittadinanza e, ahimè, anche, soprattutto alla politica che questo processo non è più un processo dove si distingue tra il sì e il no, ma sul come. e quindi l'invito è a tutta la politica, anche in questa maniera, di capire che oggi è il momento di governare il processo e non doverlo subire.